Roberto La Selva, responsabile dei settori giovanili dell'Angolana Renato Curi e della Caldora. Oggi siamo al Parco dei Risis per parlare di questa iniziativa. Come società donate un defibrillatore all'Aurora Sapori che gestisce il Parco dei Risis. Come è nata questa iniziativa? È nata dalla volontà delle nostre presidentesse di Chiara Bancoschi della Caldora con Nicola Corvacchiola, presidentessa della Renato Curi Angolana, che hanno voluto fare questa donazione all'Associazione Aurora che gestisce il Parco dei Risis. Un'associazione impegnata anche con i ragazzi diversamente abili. Un'associazione che ci ha dato anche la possibilità di entrare nel parco per scuola calcio e per proporci per le nostre attività. Abbiamo voluto ricambiare in qualche modo questa loro attenzione nei nostri confronti con questo gesto che secondo me è molto importante. Noi siamo forse due tra le poche società in Abruzzo che hanno nel proprio impianto sportivo già un defibrillatore in dotazione. I nostri tecnici, i nostri dirigenti annualmente fanno corsi BLSD per l'utilizzo di questi defibrillatori. È una volontà precisa delle nostre presidentesse, quindi non possiamo esimerci da questo compito. Abbiamo quindi voluto, conoscendo il valore di questo oggetto, abbiamo voluto donarne uno anche all'Associazione sperando di fare cosa gradita. Caldora Pescara, Angolana e Renato Curi sono due società che da sempre puntano sui giovani e sui ragazzi. Sì, è una società che ha una lunga tradizione, ricordiamo che hanno anche vinto campionati italiani. Speriamo di poter continuare su questa scia e se possibile anche di migliorarla, perché noi ci proviamo, l'impegno e la volontà c'è.